Chiaro Quanto abbiamo fatto raga? Beh scusate faccio off topic Io ho toccato tutte le domande Che volevo toccare E venite di qua Questa la teniamo No magari mi sono dimenticato qualcosa Vado quanto è difficile fare questo podcast raga È difficile perché devi Devo riuscire a Amici di Starting Finance Mi sembra di aver toccato tutto Una fatica raga Però è bello no? A me è piaciuto molto